salve risponde la segreteria telefonica del numero 06 che numero abbiamo di casa ma cos'è quella roba lì? no è il telefono nuovo l'ho comprato oggi ho trovato l'occasione il telefono nuovo? ma quanto l'hai pagato? l'ho pagato pochissimo pochissimo quanto? sì tipo boh 195 euro 195 euro? ma sì ma basta cosa c'è un telefonino costa anche 700 euro questo fa anche i fax i fax? ma i fax non li usa più nessuno da vent'anni? ma io li uso posso usare il fax io uso il fax ma cosa lo usi a fare il fax? perché mi piace metto dentro il foglio e mando un fax ma chi lo mandi? dagli amici mi arrivano i copioni oh basta mi lasci registrare il messaggio per favore registrare il messaggio di cosa? della segreteria telefonica poi volevo mettergli anche una canzone di Battisti emozioni emozioni di cosa? ma dai non vergognati ma la gente toglie il telefono di casa e tu metti la segreteria telefonica senti mi lasci fare il messaggio poi mi hai miniaturizzato questo qua senti dai basta te l'han dato piccolo dai lasciami fare il messaggio ma voglio proprio sentirlo sto messaggio qui salve risponde la segreteria telefonica lasciateci un messaggio oppure spediteci un fax ecco sopra tutto il fax spediteci un fax ma sei scemo? ma sei cretino? parliamo via fax dai comodo salve non ci crederete ma è una segreteria telefonica lasciateci un messaggio oppure spediteci un fax oppure mandateci un piccione viaggiatore è più moderno è più moderno rit Another great as we le ?? ucks la the christ they can Grazie a tutti